Era importante fare il risultato oggi, visto anche i risultati delle altre squadre la classifica iniziava a essere un pochino preoccupante quindi tre punti che sono stati molto importanti ma io credo che la squadra abbia fatto una buona partita al primo tempo secondo me per i primi 35-40 minuti ha fatto molto bene poi giocavamo comunque contro una squadra importante il secondo tempo è stato un po' più equilibrato e niente, io sto bene, sono entrato con voglia e insomma sono contento di aver dato il mio contributo Sì, io vengo da un lungo infortunio quindi insomma è normale che ci voglia un po' di tempo per trovare la condizione migliore quindi spero di essere finalmente in forma per queste ultime 15-16 partite che manca Ma io dico sempre prima raggiungere l'obiettivo minimo e poi una volta raggiunto quello guardare più avanti quindi intanto arriviamo alla salvezza poi se riusciremo ad arrivare anche ai play-off saremo tutti contenti e poi si riusciremo a fare un'altra e poi si riusciremo ad arrivare anche ai passi Grazie.